Ciao a tutti, facciamo oggi un altro workout dedicato alla nostra amica Diana che si allena con noi per rimettersi in forma. Allora, qui ci sono i miei appunti, è un circuito costituito da tre blocchi di esercizi per le varie zone del corpo, bassa, centrale e alta, quindi gambe, glutei, addominali e dal petto in su e ogni blocco di esercizi è costituito appunto da tre esercizi che eseguiremo per un minuto ciascuno. Dopodiché questi blocchi saranno intervallati da delle parti di approccio cardiovascolare ad impatto più o meno intenso a seconda sempre del vostro gatto di allenamento, quindi faremo una corsa sul posto intervallata da dei saltelli o comunque un simil salto con la corda e come sempre questo circuito può essere anche ripetuto più volte. Direi che l'importante come sempre è scaldarsi bene, quindi fare una buona fase di warm up e poi alla fine dell'allenamento cercare di defaticare in maniera graduale, progressiva proprio per evitare possibili infortuni. Bene, andiamo! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! a tutti!